Perché hai scelto proprio loro per fare questi paletti? Non necessariamente di uomini, intelligenti anche se poi loro lo sono, ma attori intelligenti intendo che io come regista ho bisogno di lavorare con persone che stanno sul set in maniera molto creativa, che propongono e non ricevono passivamente indicazioni, ma che propongono e che mi danno la possibilità di concertare. E Claudio, va bene, sia uno dei miei migliori amici, ma ho studiato Stefano e Luca, io lo dico adesso perché magari non lo so, però ho studiato il loro film, Anna era tanto tempo che ci volevo lavorare, Carlo è uno degli attori che stimo di più, perché riconosco in loro quelle qualità lì, capisco che sono degli attori che hanno un'intelligenza specifica nel stare sul set e rilavorare sulle storie, sulle singole battute, sulle singole sfumature. Mi piace lavorare con quegli attori lì e non sono capace di lavorare con gli attori istintivi o gli attori, quando si dice l'attore preso dalla strada, io invece personalmente faccio molta fatica, ho bisogno di lavorare con i professionisti. Allora, cinque falliti, no? Le hai definiti nel film, ma sembrano essere anche cinque eroi. Voi cosa ne pensate? Guarda, chiedilo a loro, per me c'è, nel senso che all'estremo del fallimento c'è o la caduta o la ribellione, quindi c'è la possibilità di essere definitivamente, di morire, oppure di ribellarti e tentare di essere un certo non un eroe, però quantomeno un anti-eroe, che è insomma, nel cinema gli anti-eroe sono fondamentali. Io credo che questo film abbia una parte comica e di commedia molto molto forte, nella quale si ride tanto, però gli ultimi 20 minuti è proprio un inno all'eroismo, ed è una cavalcata. A me, non so, penso sempre a Wagner, penso a questa cosa proprio che ti prende, ti rapisce, ti porta via, io quando l'ho visto proprio non riuscivo quasi a respirare, mi sono proprio fatta travolgere da questo flusso. Per cui penso che la parte eroica di questo film sia la cosa che vincerà e che convincerà il pubblico, di questo ne sono convinta. È proprio lì, è proprio lì che mi sono innamorato del film che avevo fatto, perché mi ero innamorato prima, quando me l'ha raccontato, mentre lo facevamo, ma gli ultimi giorni, proprio perché abbiamo girato in sequenza, e quindi alla fine giravamo la fine del film, coscienti di tutto quello che avevamo fatto e di chi eravamo tutti e sei, e io poi a un certo punto gli ultimi giorni ho detto, ammazza come siamo fighi, ma non noi, i personaggi, e neanche come li abbiamo fatti noi, come erano proprio. Questa storia li esalta alla fine, questi sei personaggi, non puoi fare a meno di abbracciarli. C'è un momento in cui il gruppo di noi cinque si saluta con Carlo, e mi ha fatto quasi, porca miseria, portavo solo con noi. Cioè, è proprio questo, questi personaggi vivono un arco, e all'apice dell'arco sono proprio fighi, sono proprio belli, nonostante siano sudati, sporchi, un po' sfigati, raccontano dei loro fallimenti, però sono... Pieni di vita. Esatto, e pieni di belle, di cose belle, di cose belle. Io credo che Adorado ci ha dato una grande opportunità. La cosa bella quando si legge una storia e pensi al tuo personaggio, è bello immaginarlo, bello immaginare, ho usato una parola interessante Claudio, che è arco, che partono da un punto A e devono arrivare a un punto B, e in mezzo c'è un viaggio, c'è una trasformazione enorme, ed è bello portare in scena un cambiamento, non una cosa statica. Ci ha fatto un bel regalo, Edoardo. Soprattutto c'è una parola bellissima, che proprio io la ritrovo in tutti i film che poi amo, sono anti-eroi, cioè sono quattro che questi, ma Edoardo pure quelli che abbiamo raccontato nel Pinguino, sono quattro che non gli daresti mai una lira, anzi sei in questo film qua, e che poi se la guadagnano questa lira, ed è bello questo, finalmente il cinema ritorna a raccontare non gli eroi, non i bellissimi, non i ben vestiti, non i pettinati, non i truccatissimi, siamo meravigliosi nella nostra incompletezza, e questo mi piace moltissimo.